ecco questa è la nostra bella scala A2 che dobbiamo ottenere con AutoCAD vediamo come procedere ci mettiamo nella vista frontale e visualizzazione X-Ray cominciamo con la polilinea a disegnare il gradino partiamo così con 10 poi ci spostiamo larghezza gradino 32 qui l'altezza del gradino più 10 lo spessore della scala ovvero 26 e 6 e andiamo a chiudere bene adesso andiamo a riprodurre questa geometria per 9 volte cioè i gradini della prima rampa con il comando copia prima facciamo i primi 3 riprendiamo il comando copia e realizziamo poi gli altri 6 in totale 9 la prima rampa è stata costruita con il comando specchio andiamo a realizzare la seconda rampa molto bene posizione sud-est e andiamo ad estrudere per la larghezza della scala ovvero 110 eccoli qua mettiamoci vista dall'alto e sempre sud-est perché andiamo a mettere in posizione con il comando sposta la seconda rampa in questo modo puntiamo questo vertice e ci spostiamo di 40 cm ecco fatto abbiamo posizionato correttamente le due rampe comando ancora estrudi attenzione con ctrl-click facciamo questa operazione ovvero con una distanza di 110 cominciamo a costruire il pianerotolo ancora ctrl-click ed estrudiamo fino a questo punto in questo modo abbiamo realizzato il pianerotolo della nostra scala uniamo per comodità tutto quello che abbiamo fatto quindi per creare un corpo unico impostiamo un colore per la prossima geometria sul verde perché diventi più chiaro il tutto andiamo a realizzare quello che sarà il percorso sia del corrimano in questo modo con il comando linea sia del parapetto della scala prima la parte esterna e poi ci concentriamo sulla parte interna ecco fatto nascondiamo la scala per comodità in questo modo convertiamo in polilinea le nostre linee con il comando unisci perché poi ci sarà molto comodo per realizzare con sweep il corrimano e anche il parapetto facciamolo in tutte e due i lati spostiamo il tutto all'altezza di 138 ecco qua questo è il corrimano andiamo a disegnare proprio con un cerchio lo mettiamo già in posizione dallo spessore dallo spessore di raggio 2 bene andiamo a scomodare il comando sweep dove basta selezionare in questo modo il nostro cerchio e poi il percorso vedete la forma il cerchio e il percorso ecco fatto realizzato il nostro corrimano ora invece ritorniamo a utilizzare strudi per realizzare il parapetto di altezza 136 eccolo qua sono superfici quelle che abbiamo realizzato e abbiamo attivato anche la visualizzazione della scala ecco qua isoliamo invece la scala questa volta mettiamoci la vista dall'alto perché grazie al comando che troviamo in questo punto flat shot possiamo ottenere velocemente anche la versione bidimensionale della nostra scala realizzata in 3D in questo modo ecco qui mettiamo tutto in posizione con il comando sposta selezioniamo la nostra scala 2D la portiamo esattamente a coincidere con questo vertice tutto visualizzato perché adesso andiamo a trasformare le superfici in solidi con questa tecnica thickness spessore meno 1 lo estudiamo nella parte esterna invece 1 parte opposta selezioniamo i nostri due corrimani e cambiamo il colore per migliorare meglio la visualizzazione del tutto ecco qui schermo intero per apprezzare ancora meglio la nostra bella scala 2D realizzata con AutoCAD in pochissimo tempo grazie a tutti voi per la visione grazie a tutti